Secondo voi che cosa può valere una pietra del genere? 25 carati! Ma sì, ma pietra da un carato! Più la pietra è grande, più ha valore, più è rara! Qui è una pietra da 25 carati, che prezzo ha? Non la vedete da nessun'altra parte al mondo, ce ne sono pochissime al mondo di pietre del genere! Allora, attenzione! Questa è una gemma che dovete avere per i vostri nipotini, per la vostra famiglia, è un famoso anello che dovete passare in generazione, perché qui avete un valore che aumenterà del 30-40% all'anno! E' una gemma da 26 carati! Ma io non l'ho mai vista una pietra da 26 carati! Una pietra naturale da 26 carati! Mai vista! Oggi ve la porto qui per 4 milioni! Apprezzate, amate la SM gioilieri di Valenza! 26 carati! Guarda che meraviglia! Voglio fare un giochino per vedere, voglio misurare quanto siamo! Vedete qui ho la ruota del risparmio, perché ci sono tutti i prezzi, 3 milioni, 8 milioni, 6 milioni, 1 milione e 4, 8 milioni, 3 milioni, vedete tutti i prezzi, voglio fare un esperimento! Chiamo Mr. Ferruccio, dove cade la pallina vi do tutti i due anelli, anche se dovesse cadere su un prezzo di 3-4 milioni, ve la do a 3-4 milioni, tutti i due anelli! Signor Ferruccio, è pronto a lanciare? Allora, attenzione, dove cade la pallina, veni rega, vi do i due anelli, anche se dovesse cadere sui 3-4 milioni, vi do tutti i due anelli! Mr. Ferruccio, è pronto? Dai, provare a fare questo lancio! Vai, sì, bene, Mr. Ferruccio sta lanciando, vediamo dove cade la pallina, vediamo dove cade la pallina, uno, no, no, 80, non è un 1 quello, a me non sembra un 1 questo, a voi sembra un 1, è uno scarabocchio quello, non è? 980 mila! o 1, se è un 1? 1 è questo di sopra, non questo, no, quello non è un 1, lasciamola qui, vado informarci un attimino, vado informarci un attimino, vado informarci un attimino, vado informarci un attimino, io da casa vedo 980 mila, no, io non perdo la faccia, attenzione da casa, per me è 980 mila, rimane 980 mila, allora da casa, attenzione, Jerry vieni qui, è il destino, è l'importanza, io vedo, per me è 980 mila, guardate i due, allora chiamate e vi do tutti i due gli anelli a 980 mila, no, no, io non ci perdo la faccia, non si perdo la faccia, tutti i due gli anelli alla prima telefonata a 980 mila, eh amici, secondo voi che cos'è? Guardate con me, guardate con me, secondo voi che cos'è? Ma io vedo l'1 e questo di sopra, questo è un 1, questo è uno scavabocchio, 980 mila, chiamate, amici, guardate qua, il tuo pazzo è azzurro, attenzione, è un 980, per me non è un 1, attenzione, guardate qua, per favore, fuori dagli studi, chiamate, non fatevi impressionare, tutti i due gli anelli, vi do 980 mila, amici, è il destino, ma secondo voi ho ragione o no, per me è 980 mila, guarda qua, allora chi chiamo in questo momento? Tutti i due gli anelli, 7 milioni e mezzo di anelli a 980 mila, chiamate, no, no, poi ce la vedremo noi in sede separata, attenzione, da casa, da casa, guardate con me, guardate con me, ho ragione o no, per me è un 1, per voi che cos'è questo? L'1 è questo, questo è un 1, lo vedete o no? Per me è 980 mila, chiamate, vi giuro, vi do tutti i due gli anelli a 980 mila, parola di Sergio, lo smeraldo, attenzione, muso, con diamanti e il tuo pazzo è giuro da 26 cavati, solamente questo è oltre 10 grammi d'oro, ehi, italiani, muovetevi, parola di Sergio, il destino, qui mi hanno autorizzato a farlo, la prossima volta scrivono meglio i numeri, chiunque sia l'ascolto, gli do tutti i due gli anelli a 980 mila, Luigi, fammi vedere il lancio, fammi vedere, voglio vedere la registrazione, tutti i due gli anelli a 980 mila, amici, sto pazzo è giuro a 26 cavati, è una pietà unica al mondo, se stanno 4 o 5 al mondo, guarda qua, guardate quello è successo, amici, guardate dove è caduta, è 980 mila, l'uno è quello di sopra, per me col pezzettino lì non è un uno, io non lo riconosco, io vedo 980 mila, chiamate perché vi do tutti e due gli anelli a 980 mila, guarda qua, smeraldo muso, Pietro Uncala 320 che porta fortuna, ripeto delle miniere del faraone, due anelli così, a buttare via realizziamo 4 o 5 milioni subito, subito, un anello del genere, buttavo via, 2 milioni ma li vale tutti, solo l'anello, ma poi ci dura, amici, ma no, 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 che mi dicono che è 1,9, dai, dai venite qua, io ho l'Italia intera che è il mio testimone, guardate qua, è 1,9 o 9,80 secondo voi, e poi ho detto che 980 mila rimane 980 mila, chiamate perché o ve lo danno a 980 o non lo comprate, questa è l'ASM, o rimane a 980 o non lo acquistate, anzi, o di più, attenzione dalla regia, rimandiamo i non della trasmissione, voglio rivedere dall'inizio, ve la ripetiamo, continuate a chiamare, rimane, vi giuro, 980 mila, tutti e due gli anelli, tutti e due gli anelli e 980 mila, continuate a chiamare.